Ciao, in questo video puoi trovare informazioni utili al tema profondo e molto sentito della crisi personale e della possibilità di trasformazione che la crisi porta. Dal greco l'etimologia significa appunto fare cernita e quindi darsi la possibilità di conoscere meglio se stessi per poter trovare nuove risposte e nuove capacità e possibilità di essere felici e di vivere una vita in gioia. Questo video, così come i prossimi quattro, sono stati creati grazie ad una cliente che ha messo a disposizione di tutti la propria energia di sofferenza ma anche la sua grandissima forza nella voglia di stare bene. In questo video che seguirà troverai la registrazione di alcune parti tratte da un colloquio dove una cliente in cammino con tecniche di costellazioni familiari e rilascio traumi ha portato alcune domande personali per cui ho potuto dare delle risposte che riguardano sia il mio cammino personale che professionale. Ringrazio la cliente e ringrazio voi per essere insieme in queste condivisioni così importanti per tutti. La registrazione è stata possibile grazie a una sessione individuale online che ha anch'essa un grande potere trasformativo. Spesso questo riconoscersi per quello che si fa viene dal fuori posto con i genitori, cioè mi do un valore rispetto a quello che posso fare per la mia mamma perché è in difficoltà, perché patisce, perché non ha l'amore del papà che è sempre a lavorare, per esempio. Quindi il figlio cresce con delle grandi capacità che si sviluppano, quindi bene queste capacità maschili di organizzazione, di cosa poter fare per non poi avere un pericolo dopo. Quindi sono belle, anche si sviluppa il cuore, quindi questo donarsi agli altri. Ma a un certo punto è importante ritornare a noi, cioè il mio valore è per quella che sono e chi sono. Se sto sempre al posto di qualcun altro, quindi per la mamma magari il babbo perché è al lavoro e non c'è e non soddisfa i suoi bisogni, per la mamma la sua mamma o per il babbo la sua mamma perché non hanno avuto quel nutrimento, invece io ho un grande cuore, figlia, riesco ad accogliere babbo e mamma come non hanno fatto, non hanno potuto fare i loro genitori. Quindi cosa capita al bambino? Che stando in quel posto lì che non è il suo, sviluppa delle capacità ma in realtà non sa chi è perché al suo posto di figlio non c'è nessuno. Quindi a un certo punto ritorniamo a noi, ritorniamo al mio posto di figlia e adesso scopro chi sono. Scopro standoci, stando ferma. Perché ho sempre fatto e mi davo un valore per quello che facevo, quel valore rimane, quelle capacità che tu hai sviluppato rimangono, non te le ha tolte nessuno. Stai integrando un'altra parte molto importante che è quella del sapere stare, riconoscersi per il valore che si ha, perché si è, ritrovare le proprie capacità altre, nuove, sempre di più, che si possono integrare a quelle che conosciamo già. Poter stare dà la possibilità anche di poterci sentire meglio ma anche di ricevere. Perché se io faccio è sempre questo movimento verso avanti, no? Faccio quindi mi spingo verso avanti. Un po' come fa anche il l'apparato genitale maschile se vogliamo fare un'integrazione, no? Rispetto a proprio fisicamente il maschio cosa fa? Va verso, va avanti. L'energia maschile va avanti. Ma se vado avanti bisogna che ogni tanto anche riesco a fermarmi per fare in modo che qualcuno venga verso, qualcosa venga verso, quindi che io possa ricevere.